Ciao a tutti benvenuti sul canale di Saiyana e noi due insieme voi siamo le facciamo la gara chi per prima chi sta più veloce arrivare alla fine e questa strada secondo voi stelline che andrà a vincere questa sfida se votate rayana nei commenti scrivete hashtag rayana se votate raya hashtag raya vi chiedo una cosa siete diventate delle stelline ancora no se no che cosa devono fare per non perdere i nostri video iscrivetevi se non l'avete fatto ancora adesso comincia la sfida aspettate prima io con la telecamera arrivo il fine della strada così vi posso riprendere al mio 3 dovete partire aspettate che questa strada stelline fino a qua fino alla fine dei fiori è lunga lunga al mio 3 dovete partire siete pronti nati pronti uno due tre piano freniamo facciamo un altro round questo round lo ha vinto raya mi raccomando andiamo piano lì dove c'è il gancio della porta attenzione piano piano siete pronti al mio 3 dovete partire uno due tre un'altra volta raya di più avanti raya non fa così se no ti faccio perdere la sfida rayana ufficialmente questa sfida con i monopattini ha vinto raya ma raya perché non ci presenti il tuo nuovo skateboard questo è il nuovo skateboard di raya e questo è il mini camioncino di raya volete fare una sfida da seduto raya da seduto dai andiamo lì al mio 3 dovete partire va bene raya da seduto attenzione non vi fate male 1 2 3 questa sfida e la vince rayana ovviamente lo skateboard è stato fatto per guidare in piedi mica da seduti sapete andare in skateboard raya si sta imparando adesso bravo allora la sfida di monopattino l'ha vinto raya la sfida di queste qua dello schede di mini camioncino l'ha vinto raya adesso posiamo lì a parte adesso è arrivato il grande momento raya un po più avanti perché ryan sta leggermente avanti così ti fermi è arrivato il grande momento secondo voi stelline chi sarà il vincitore raya con questo moto oppure ryan con la macchina al mio 3 potete partire 1 2 3 ryan ryan lo hai vinto tu perché mi sembra che la macchina di ryan avesse problemi con caricamento ciao stelline iscrivetevi al nostro canale lasciate un pollice in su e attivate la campanellina per non perdere i nostri video ci vediamo nel prossimo video ciao carayana e ryan ciao 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 ciao